Il suono delle ambulanze irrompe nelle vie dello shopping cittadino. Nella mattinata natalizia al centro di Campobasso il clima della festa viene interrotto dalla preoccupazione degli operatori del 118. Un corteo con un centinaio di persone e una decina di ambulanze parte da Piazza San Francesco, scorre lungo via Mazzini, si ferma poi davanti alla prefettura. A muovere la protesta è sempre il contestato bando pubblicato dall'ASREM a metà dicembre per la gestione del servizio di emergenza sanitaria. I problemi ne sono tanti, volontari che non ce ne sono più. Ci lasciano giorno per giorno perché a 31 euro non si può lavorare. Purtroppo loro vogliono i loro diritti come è giusto averli. che hanno presentato un bando che non esiste. Che non ci riempiano di storie, che non è possibile reperire fondi per aiutarci in questo catastrofico avviso che hanno pubblicato. Perché penso che i fondi come si trovano per le altre situazioni possono uscire anche per un servizio così importante per l'intera comunità. Purtroppo sono 22 anni che si basa sul volontariato per cui non sono mai state previste assunzioni. Adesso questo nuovo avviso ne prevede una. È chiaro che una mette in difficoltà le associazioni perché scegliere una persona su tante comporta poi il rischio che gli altri vadano via. E quindi con un solo assunto come fai a portare avanti H24, una postazione che comunque richiede dei turni come da contratto collettivo nazionale. Non è che puoi mettere una persona lì H24 sette giorni su sette. Gli operatori del 118 confermano che se non ci saranno significativi fatti nuovi si fermeranno alla mezzanotte del 31 dicembre. Ci dispiace, ci dispiace tanto, però non possiamo fare diversamente. Il 31 è stato deciso il fermo e se non ci sono novità o adeguamenti specifici noi ci fermeremo, questo è sicuro.